Giuseppe Novello Nasce a Codogno il 7 luglio 1897 Dopo l'infanzia giunge a Milano nel 1912 Per studiare presto il regio liceo Bersche E si laurea in giurisprudenza all'università di Pavia Dal 1919 frequenta l'accademia di Brera Nel 1917 viene chiamato le armi nel battaglione alpini Tirano Dal 1925 Novello collabora con l'Alpino Il quindicinale dell'Associazione Nazionale Alpini Dove i suoi disegni umoristici compaiono con la sigla 46 Durante la seconda guerra mondiale Novello è richiamato alle armi Sempre come ufficiale degli alpini nel quinto reggimento alpini E prende parte alla spedizione italiana in Unione Sovietica Combattendo nella battaglia di Dikonajevka Dopo la ritirata gennaio 1943 Torna in Italia e finisce internato in Germania dopo l'8 settembre E decorato con due medaglie d'argento e una di bronzo al valor militare Pittore rinomato e autore di alcuni libri Nel 1950 Novello tiene la sua prima mostra personale Nel 1952 affresca le pareti della sede sezionale con Bruno Riosa e Mario Vellani Marchi Si spegne a Codogno il 2 febbraio 1988 Nel 1952 affresca le pareti della sede sezionale con Bruno Riosa e Mario Vellani